Ho perso il canale, faccio qualcosa su uno dei miei personaggi preferiti. Katia Pedrini che... Non ricordo se per prima o per seconda... Non ricordo se per prima o per seconda abbia percepito dunque... Bah, va beh, comunque... Carissima signora, che è vecchia... Che è una... è una mierda che ti ammettra a pensare... E' schifo sopra... Cito quantomeno di incoerenza... E' schifo... E' schifo... Grazie. Un po' è molto difficile da... Non è facile. Non è facile. Questa c'è un po'. 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 È incredibile. In questo caso, nonostante poi un giorno magari spiegherò, ma non è possibile attaccare così Gianluca. Può anche aver sbagliato. Ma può darsi. Ma può anche darsi. Ma può anche darsi. Però c'è. Gianluca non può... C'è. Va bene. Non ho capito. L'impatto. Avete spiegato? Avete spiegato? C'è lo spazio per dire quello che si pensa. Adesso si correggge. ho messo la controparte che dice adesso il messaggio noto che c'è anche mi deve che deve insegnare che questa nostra esatto esatto non hai ragione Gianluca perché ma poi eh dai per stare ma donna tanto lascio sì va bene vedi tu ma ma quando anche abbia sbagliato ma non è per vero non c'è faccio così anche c'è la vecchia la risposta di vecchia guardia pedrini ma quando anche abbia sbagliato va beh è abbastanza difficile serve un'onniscienza comunque auguro a Katia di trovare di riscrivere una così di ritrovarsi di ritrovare le soddisfazioni che merita per la passione di questi anni non dico altro bocca al lupo a presto Presidentessa da tanto non la vedo direi da un anno e mezzo salute